se posso esprimere la mia opinione non credo che siano ancora pronti per non è vero nessuno è più forte di me va bene e dove lo posso incontrarlo vado a dare quell'occhiavo sento una grande forza non è solo pronto liberati di quei miserabili saiyan e così saresti tu il leggendario super saiyan verresti a lavorare per me? saresti belli tribunzi? com'è possibile? Karol sei finito! che potenza questa è Laura che aveva avvertito prima che potenza che potenza